Grazie a tutti. Ci ha fatto passare una serata meravigliosa, ricordo il suo ultimo libro che si intitola Quando eravamo i padroni del mondo, Roma, l'impero infinito, pubblicato da HarperCollins che è disponibile lì al banco e vi do un'informazione tecnica. Per quanto riguarda il firmacopie si terrà in fondo alla biblioteca. Per chi non fosse interessato al firmacopie e volesse uscire e tornarsene a casa può uscire dalle porte laterali, una è qua accanto e l'altra è qui dietro. Grazie ancora. Grazie. 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 Grazie.